Tutti in coda, in via Mazzini numero 46, Vietri sul mare. Si chiude con un esito del tutto negativo l'iniziativa referendaria sulla giustizia in Italia. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza supera di poco il 20%, il 20,9% rispetto alla soia minima necessaria per la validità della consultazione, pari al 50% più 1 degli aventi diritto. Per quanto riguarda i risultati, invece, su due dei cinque quesiti la vittoria del sì non è schiacciante. Sull'abolizione della legge Severino, il no raggiunge quota 46,03%, mentre sui nuovi limiti alla carcerazione preventiva il 43,84%. Maggioranza dei sì sugli altri quesiti. 74,07% di sì alla separazione delle funzioni dei magistrati. 72% sul diritto di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati. 72,55% per l'abolizione delle firme per le candidature al CSM. In provincia di Salerno, la percentuale di votanti relativa al primo quesito è pari al 21,38%, mentre per gli altri quattro è di 21,39%. A Cava dei Tirreni, l'affluenza alle urne oscilla fra il 13,58% al 13,60% tra i vari quesiti. Intanto partirà dalle ore 14 di oggi lo spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni comunali che si sono tenute in 971 comuni italiani.